Buonasera, tenente. Il morto è dentro. La vittima è il padrone, è laggiù. Stava punendo la pistola, gli è cascata. La sicura è scattata lasciando partire un colpo dal basso verso l'alto. Chiaramente si tratta di morte accidentale. Deve essere presente anche la moglie. Eravamo qui, io e mio marito. C'era anche il rucuoco. Io facevo dei conti. Mio marito stava purendo la pistola. Lì è caduta e... Fuori, fuori. Anche tu. Giurani, ti prego. Vai, Ciulai. Sto tentando di imparare a fumare, ma non ci riesco. Sono il tenente Boghi della squadra speciale. Perché speciale? Perché le sembra uno normale io? Non vedo perché. Una disgrazia è evidente come questa. Debba richiedere l'intervento di uno speciale, come lei. Se è una disgrazia sono venuto qui per niente. Se è una disgrazia. Basta prendere le impronte retiniche. Impronte retiniche? Che sono? Quando la vittima muore con gli occhi aperti, come in questo caso, spesso nella sua retina rimane impressa l'ultima immagine che lui ha visto. E allora con questa macchina, che è una macchina speciale, che ha una pellicola speciale, che abbiamo in dotazione noi della squadra speciale, la fotografo. E con questo, che vorrebbe dimostrare? Che se c'è stato un assassino, lui l'ha visto. E se l'assassino non c'è stato? E allora vuol dire che è morto per niente. Cosa c'è? Niente. Si vede qualcosa? No. No? Si. Chiudrahi! 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 Vaicata. Voi, vieni vieni. Vieni vieni, vieni, vieni. Vieni vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Chiudrahi. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Chiudrahi! Come a fatta capirlo. Cosa? Che io, il mio amante, Chiudrahi. Abbiamo ammazzato mio marito simulando un incidente Per vendere il ristorante e tornare a vivere felici nella nostra amata Cina Come ha fatto a capirlo? Me l'hai detto tu adesso? Porco cane, non riesco proprio a fumare Portateli via Portateli via Portateli via No, no, non ci siamo, non ci siamo Fai una gallina Linda, l'urlo mica deve essere uno striletto Te devi sgorgare da dentro, salì per le budella Schioppare di brutto Allora, pensaci, pensaci Dove ti ha morso il serpente? Dove ti ha morso? Ehi, dove ha morso? Ehi, va bene, va bene, la rifacciamo, Glaco Questo è il pezzo forte del film Se doppiamo qui abbiamo chiuso, hai capito? Forza, rifacciamo un'altra Avanti, ancora un'altra! Mi raccomando Sì? Un momento, per favore Linda, che c'è? E mo' pure il telefono, va? Pronto? Pronto? Sei tu, Linda? Mi riconosci? Sono io, sapessi che mani grandi che ho! Per ucciderti meglio! Mi dispiace che tu te ne vada, Boghi A me no Era da un anno che aspettavo questo trasferimento Con te dormivo tranquillo Mi ero abituato a vincere A pareggiare? Beccare un assassino non è una vittoria È un pareggio Da una parte la vittima E dall'altra un arrestato È il poliziotto al centro Uno a uno Prevenire sì che è vincere Uno a zero per noi Chi è? Ma non vedi che sono fuori servizio? Ti passo il capo È per te Pronto? Sì? Sì Si calmi, si calmi Come si chiama lei? Sì Mi dia l'indirizzo Sì Sto scrivendo, va bene Provvediamo subito, va bene Una mezzanata, un'attrice Dove li trovo io con tutti i casini che ho gli agenti da metterli appresso? Impossibile Beh Vabbè, pazienza Tanto il più delle volte è uno scherzo A volte sono scherzi che finiscono l'obitorio Vero Beh, se l'ammazzano vuol dire che non era uno scherzo Senti Tu quando parti? Domani sera Perché? No, perché questo è proprio uno di quei casi che si potrebbero prevenire Si potrebbe fare un a zero per noi Dove abita? Chi è? Polizia Me lo dimostri E' la mia tessera di riconoscimento No, io l'ho già vista una al cinema fregata così Perciò non apro Comincio a provare una certa simpatia per quel maniaco che lo vuole uccidere Come non detto, arrivederci Per prima cosa cambiare la serratura Si apre con un temperino Ma lei è davvero un poliziotto? Non si vede? Mi scusi ma sono un po' nervosa Non bisogna essere nervosi Altrimenti si perde la calma Fuma? Non ancora Ma ci riuscirò un giorno Cioè? Parliamo del maniaco piuttosto Mi dica tutto Fin dall'inizio La prima telefonata è arrivata una ventina di giorni fa E lì per lì non ci ho dato peso Anzi Ho pensato di utilizzare la cosa per farmi un po' di pubblicità Vado avanti E poi ho seguitato Telefonate continue Di giorno, di notte Dappertutto Sa sempre dove sono Io ci sto impazzendo Scusi ma che ha fatto? Ho preso appunti Poi con calma Lo risento a velocità normale E il maniaco cosa le dice? Vorrei le parole precise Sempre le stesse Sei tu Linda? Mi riconosci? Sono io? Sapessi che mani grandi che ho Per ucciderti meglio E la voce com'era? Stridula, in falsetto Come così? Sei tu Linda? Sapessi che mani grandi che ho Per ucciderti meglio Uguale, la stessa voce È la tipica voce del maniaco Mi dispiace Non fa niente Non perde la calma Ma le fai meni? Ma sei matto? Aiuto 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 C'è uno che mi vuole ammazzare Chi è? Maniaco Dov'è il telefono? Maniaco? Come maniaco? Au Polizia, rispondete Ma se non fai il numero Chi te rispondi? Ah già Pronto 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 Aiuto Lasciami Aiuto Aiuto Averta la polizia Presto Oh Almeno rimettete a posto il telefono Se no questo scatta Ah ma Mettimi giù Mettimi giù Mettimi giù Atento E lasciami Lasciami E lasciami Dai ferma lì Se fossi in te Metterei la cintura di sicurezza Averta la polizia Aiuto 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 arrestatelo è un pazzo mi vuole uccidere ah è lei tenente ci scusi tenente boghi ragazzi per quanti non lo conoscessero questo è il tenente boghi della squadra speciale domanda chi sono io tenente boghi squadra speciale brava ha bisogno di noi tenente no grazie potete andare andiamo ragazzi ma tu le donne le strapazzi sempre così certe volte se mi fanno arrabbiare sul serio anche peggio di così ma davvero insomma si può sapere cosa fai levo tutte le porte così potrò averti sempre sott'occhio ma così mi demolisci la casa vuoi che ti protegga sì o no fermo quella del bagno ma allora quando vado in bagno tua intenzione di rimanere lì a proteggermi guarderò da un'altra parte e quando vai tu in bagno devo guardare anch'io da un'altra parte quando sono in servizio non vado mai al bagno e quando sei in servizio quali altre cose non fai arinda so glauco è fatta e si lo famo appena senti il messaggio vi è qua che fa me foto arinda sta volta te faccio fa una parte che renditi pure c'ho l'hai sempre quelle mutande nere con lo spacco di dietro con quelle guarda a suon nipoli in america c'ho già il titolo spavento fra le cosce parte seconda così se fai i sordi ce fanno fa pure la prima parte corri corri chi è? è il regista del mio ultimo film e anche del prossimo ho giusto il tempo per fare una doccia vai da lui? devo! certe volte un servizio fotografico determinante per la carriera di un'attrice ma scusa prima non avevi detto che guardavi da un'altra parte beh se proprio devi guardarmi allo specchio tanto vale che ti volti no? e se fosse il maniaco? ma chi glauco? no lui no lo conosco troppo bene glauco è il maniaco ma del cinema horror no se fosse lui che ha telefonato e ha truccato la voce impossibile glauco è inevitabile mi passi l'accappatoio? ah linda vedi te sta in campana che il poliziotto c'ha ragione ma sai che il salicone te sei in groppa glauco non è inimitabile signori qua la macchina buffa che sta inseguendo lei? si è un rompiscatole senta le pago la corsa doppia se riesci a seminarlo stia tranquilla muo semino io non è il genere svegliere la macchina buffa che sta esce no ma la macchina buffa che sta esce la macchina preferiva suore Signorina, la devo aspettare? No, no, grazie, ho già chi mi accompagna. Tenga. Eh, a lui. Grazie, buonasera, eh. Buonasera. Glauco? Glauco? Glauco, dove sei? Glauco? Dai, Glauco, esci fuori. Non fare il cretino. Stai qui dentro, eh? Glauco? Beh, che c'è? Ah, Linda, il film comincia così. Ma che te senti male? Allora, pur di che funziona. Linda, svegliate. Ma chi è? Aiuto, aiutatevi. Aiuto, aiuto. Credo che dovrò portarlo dal medico. Ma è Glauco, il regista del mio film. Ho fatto rapporto al pronto soccorso. Potete rilasciarlo. Povero Glauco. Ma ti rendi conto che quasi quasi lo stavi ammazzando? L'ho soltanto reso inoffensivo. E poi cosa ne so io? Che i registi hanno la faccia da maniaco. Ma lui voleva scherzare. Stava scherzando. Chi scherza con le mani? Cosa? Niente. Finisce così. Chi scherza con le mani? Ma tu ce l'hai una moglie? Una ragazza. Ho una madre. Che è vecchia e sola e ha tanto bisogno di me. E quando non ci sono si gioca tutta la pensione a 3-7. E se non l'hai beccato il maniaco prima della tua partenza? Lo beccherò. Dormi lì? No, non dormo. Scusa, ma a te cosa ti hanno fatto le donne? Perché? No, niente. No, è che io non ho mai trovato quella giusta. E qual è quella giusta? È quella che poi uno presenta la madre. Ah, ma deve piacere a te o a tua madre? Piacere a me, ma piacere così tanto che poi la presento a mia madre. Metti che succeda che trovi quella giusta. La presenti a tua madre e a lei non piace. Tu cosa fai? Già, a questo non avevo mai pensato. E tu? Io cosa? Tu non hai mai presentato nessuno a mia madre? No, io non ne voglio di storia. Devo pensare a me, al mio lavoro. Sai, non è mica facile, ma io devo riuscirci. A tutti i costi. Che c'è? Eh, no, stavo pensando. Vai, lasciamo perdere. Però devi promettermi che non appena esce il prossimo film, quello mio, vai a vederlo a Milano. Come si intitola il tuo film? Non alzare quella tavoletta. Di che cosa parla? Dunque, è la storia di uno psicopatico che ha la mania di mettere dei serpenti velenosi nei bagni delle signore. Continua. Muoiono tutte, tranne me chiaramente. Io vengo morsa, però arriva subito lui, l'eroe. Un agente speciale. Che mi salva succhiano il veleno dalla ferita. E lo sai dove mi è morso il serpente? Dove? Ma allora è vietato. Eh, penso proprio di sì. Mi riconosci, Linda? Sono io. Sapessi che mani grandi che ho per ucciderti meglio. A presto, cara. A presto. Hai paura? No. Con te no. Né anch'io con te. Né anch'io con te. Stanno uscendo, ma. Ah ma, ma con quello che gli sta sempre appreso, ma come famo? Facciamo, facciamo. Tirami fuori la macchina, che ci penso io. Vabbè, io prendo la macchina. Però tu non fumà. Da stamattina te ne sarai già fumato tanta. Ah, la schiena. Sono piena di lividi. Colpa tua. Vorresti dire che sono stato brutale? No, sei stato dolcissimo. Però, almeno, per far l'amore questa cosa qui potevi toglierla. Senti, tu è meglio che non entri, perché se Glaco ci vede insieme è col cavolo che mi dà la parte. Va bene. Comunque, se c'è qualcosa io sono qua, chiamami. Ciao. Ciao. Linda, adesso tu devi strillare come ho strillato io ieri sera, vabbè? Vai tranquilla, vai tranquilla. Chi ha fatto lo sembra più veloce penso io. Incidiamo. 27 e 18esima. Oddio, armato. No, fermo, io non c'entro niente, lascia me a verde, per carità. Lo hai fatto apposta, eh? Apposta? Sì, lo hai fatto apposta. Al buio con l'olà ti stavo strozzando, cosa dovevo fare? Comunque, se il tuo intento era quello di farmi rompere con Glauco, di crearmi dei casini con il mio lavoro, ci sta riuscendo. Dimmi un po', vuoi farmi perdere il film? Spavento fra le cosce? Beh, a me questo mi offrono per ora. E se credi che io sia disposta a rinunciare il mio lavoro per uno scemo pallone gonfiato come te, ti sbagli. Avanti, firma la macchina che siamo arrivati. Puoi scendere, siamo arrivati. Comunque sappi che dietro c'è una macchina nera che ci sta seguendo. Da stamattina. Buongiorno, signora. Bravo, sei proprio un fenomeno. Ma lo sai chi è quella? È la mamma del mio vicino. Simpatica? Davvero? No, a me no, per niente. È la mia padrona di casa. Mi ha dato lo sfratto, mi vuol cacciare via. Ma io non me ne vado neanche se mi ammazzano. Come hai detto? neanche se mi ammazzano. La ragazza ha detto che non lascia la casa dove abita in Ampizzo neanche se l'ammazzano. Se però cambi idea e decidi di andartene da qui, magari per venire a Milano con me, io potrei anche presentarti a mia madre. Sono sicuro che le piaceresti. No, Boghi, è giusto che tu sappia la verità. Ti ho fatto perdere del tempo. Ti ho preso in giro. Non esiste nessun maniaco. Tutto ho inventato da Glauco per fare pubblicità al film. Ma sai, ma sai, il cinema è fatto anche di queste cose. Sei bravissimo a recitare. Ti auguro di vincere una sfilza di Oscar. Sfotti pure, me lo merito. No, dico sul serio. Sei riuscito a fregarmi? Anche stanotte recitavi? Mi dispiace. Buongiorno, signorina. Ah ma, il poliziotto se ne è andato. L'ha lasciata sola. Bene, bene, è ora di agire. Ah ma, ma sei sicura? Non è che stiamo a fare una cazzata? Non dire parolacce e rimettiti subito la macchinetta dei denti. Vabbè ma, io me la rimetto. Però me fa male. Non ti arrabbiare. Io so buono. Faccio tutto quello che vuoi te. Ecco, lo vedi per fumare? Sei rimasta pelata. Mannaggia. E mo' chi sarà? Boh. La manucca imbecille. Ah, grazie ma, grazie. Toglimi di qui, cretino. Mannaggia, c'hai ragione. Scusa, ecco. Ah, c'hai sempre ragione te. Te sei ingrassata eh, ma, ammazza. Vieni, sta qui. Sta zitta eh. Ecco. Nessuno apriva e così sono entrato. Senta, scusi ma... Che c'è? Niente. Sta telefonando. Davvero? No, no, ti prego Glauco, non riattaccare. Come stai? Ecco me lo sta. So come marito tuo figlio della mignotta. Tre costole rotte. Tre costole. Cosa c'è? Sta a casca armaggio, sta a casca. No, ti giuro che lui non c'è. L'ho mandato via. Per sempre. Per sempre. Dai, vieni subito, che ho paura a star da sola. Scusi, permette una parola. Che lei è dalla polizia? Che è qui per le minacce che ha ricevuto la signorina? E tu come lo sai? Eh, beh... Scommetto che l'hai letto sui giornali. Eh, infatti, ho letto sui giornali, ho letto. Dicono che è tutta una montatura, che il manioco non esiste. Come non esiste? Esiste, esiste. Ah, ecco, appunto. Sta a cascà un'altra volta, sto gredino, sta a cascà. Lei mi voleva fregare, ma io non ci sono cascato. Per questo sono venuto qui, così la tengo d'occhio. Perché vedi... Tu com'è che ti chiami? Chi? Tu. Tu chi? Tu te. Ah, Oscar E. Con la E? Forse. Sarebbe meglio con la O. Oscar O. Io mi chiamo Alfredo, ma tu puoi chiamarmi Tenente Boghi. Ah, io la chiamo. Vediamola mamma. No, no, no che se incazza. Anzi, parliamo piano, se no se sveglia, c'ha sonno leggero. Mamma, che fai, dormi? Mi avete svegliato. Chi c'è di là? Niente, è un amico. Ora se ne va. Buonanotte signora, dorma tranquilla. Ci vediamo dopo. signor Boghi, ma che la vuole svegliare? Lasciamola riposare, Porella. Lavora tutto il giorno. E questi chi li ha fatti? Tua madre? Sì, ma non so per me, so per lui. Cos'è? serrasanmus piropleure, volgarmente detto piragna. Bel pesciolino? No, bel fio della mignotta, oltre a quello che gli damo, me sei mangiato pure tu dita. Eccolo. Chi? Il maniaco. Quale maniaco? il maniaco? Vieni a vedere. Perché secondo te quello sarebbe il maniaco? È lui, è lui. Te dico da no, fidati, non mi fa parlare. Che c'è? Niente. Oddio, armato, ce li siamo, fammela andare. Oh, e poi il poliziotto sei te, mica so io, sei te che la devi trovare. Oddio, oddio. ma non lo vuoi dire che sto scicci? Mi fai pure marci indietro, la disgrazia. Ma guarda qua che cosa, la macchina di mio padre, tu è spena uno, la macchina canavale due, a tutto. Pronto speciale? Qui è Boghi. C'è una lista in via Pipolo, angolo Castellano, quattro contro uno, quattro contro uno, non posso intervenire. No, un momento, sono cinque contro uno, allora posso. Ehi tu, ma che voglio? Come vi chiamate? Perché? Per prenotare i posti all'ospedale. Ah, vedi, abbiamo trovato uno spiritoso. No, avete trovato uno che mena. Ah, e mena pure? Abbiamo trovato uno che mena! no, io non c'entro niente, che vuoi? Che vuoi? un mito, io non c'entro che, No, io non c'entro e non c'entro. Come vi affrontare i posti all'ospedale. No, io non c'entro che vuoi? Come vi! No, io non c'entro che vuoi. No, io non c'entro che vuoi. Grazie. 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 I pirani mica scherzano. Se non stai attento ti staccano due dita. Certo che il tuo agente la sa fare proprio bene la messa in scena, eh? Io al suo posto avrei messo dentro una bomba atomica. E va bene, ti ho detto una bugia. Volevo liberarmi di te. Il maniaco esiste davvero. Certo che esiste. E tante volte si nascondono dietro le tende. Ci hanno svagato, damo, se ma... St'attento, Poggi. Corri, ma che siete più pochi si è fatta. Fuori tutta la storia, Oscar. Io non so, Oscar. Sono la madre. Ah, sì? Sono la macchina di mamma. Che vuoi fare? Fermo! Che io dicevo a quella? Allora, Oscar, ti decidi a parlare? Io non so, Oscar. Sono mamma. Allora sei la proprietaria di questa bella macchinetta. Sì, perché? Che ce vuoi fare? Niente, voglio soltanto vedere se resiste. Fermo, Dio! Deciditi, Oscar. Sei tu o tua madre? So, Oscar! So, Oscar! Mamma, so, Oscar! Fermate! E la mamma? Oh, no! La mamma è morta. È morta dieci anni fa. A causa delle sigarette. È schioppata di fumo. È stato un colpo terribile per me. Eh, sì. Di mamma ce n'è una sola. Anche di pensione ce n'è una sola. Sì, sì, lo so. L'ho fatto per la pensione. Quando mamma è morta, mi sono sostituita a lei. E non ho denunciato il decesso. Per continuare a beccare la pensione. Ogni mese ti travestivi da vecchia per andare alla posta a riscuotere. Sì, e come dovevo fare? E per rendere tutto più credibile mettevi un manichino vestito da tua madre dietro le tendine. Sì, sì, sì. Per la gente, per i vicini. Sai com'è la gente? Parla, si impiccia. Questo all'inizio. Poi ho cominciato a dire qualche parolina. A farla parlà. Vai avanti. Una frase, un complimento. E com'è, com'è non è. Un giorno mamma mi ha detto te l'hai messa la macchinetta per i denti, Oscar? Io lì per lì mi ha preso un corpo. Ma poi vuoi sapere la felicità? E quando si trattava di mandare via Linda ha inventato il maniaco per spaventarla, vero? No, no, quella non è stata l'idea mia. È l'idea di mamma. Tu che avresti fatto? Due camere, cucina, servizi, giardino, riscaldamento autonomo, condominio compreso, a equo canone, 38 mili al mese. Ma lo sai che per quella casa avevano offerto un milione e mezzo? Mamma è buona, sì, ma mica è stronza. Oscar. Oh, che fai? Oscar. Otti la testa. Venti, che ho detto? Tua madre è morta. Sì, è vero. L'ho seppellita io, nel giardino, sotto all'ortica. Però prima c'era il basilico. Su, dai, non fare così. Sì, senti, ma per questi scherzetti che faceva mamma? Quanto gli possono dare un incensurato? Dunque, vediamo un po'. Truffa. Articolo 649, codice penale. Violazione di domicilio, 614. Molestie, 660. E poi l'articolo 56 in relazione col 575 che disciplina il tentato omicidio. Ah, dimenticavo. Occultamento di cadavere. Articolo 412. Che però, essendo occultamento di cadavere sotto le ortiche, bisogna aggiungere 3 in più perché le ortiche pungono. Quindi fa 415. E quanto fa? In tutto, tenerte boghi? Niente, adesso ti faccio il conto, poi te lo mando a casa. Oddio mio, sono minato. Vedica lei, talentino mio. Come devo fa'? Come devo fa'? Forse te la puoi cavare con una telefonata. Ah, Alice! Ah, Alice! Ciao! Già, tu sei quello che non suona mai Allora, l'hai preso? No Mi è scappato Ma hai scoperto almeno chi è? No Bravo Complimenti E tu saresti il tenente Boghi Quello della squadra... Speciale Sono venuto per salutarti Ho il treno fra un'ora E allora sbrigati, se no fai tardi Ma... Tu resti sola? Non... Non hai paura? No Non so perché Ma non ho più paura Adesso mi sembra tutta una scemata Una cosa già vista Come in un film di Glaco Coccia Maledetto Sono sempre io Con le mie mani lunghe e pelose Che verranno a strozzarti una notte di queste Aspettami cara Linda Questa è l'ultimo Lo giuro Beh, io vado Tanto Sono tutte sciocchezze Cose già viste Fai bene all'aver paura Ciao Hai detto qualcosa? No No perché se proprio insisti Io potrei anche non partire Sì, mi faccio ritrasferire qui Ma dove vado? Ormai ho disdetto la pensione E poi mica sempre posso andare alla tavola carta Dove chissà perché ti danno sempre roba fredda Oddio, se ve lo chiedi così Posso anche arranciarmi qui Da te Di la verità per una volta Ma tu resti per prendere il maniaco Oppure Oppure Mostramm-Montalense Voce Me Mi Mi De Mi 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 Grazie a tutti.